Siamo a Futura, l'iniziativa promossa dal MIUR e dal Comune di Bologna per raccontare e approfondire i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale. Qui siamo a Palazzo Renzo all'incontro e buone pratiche. I ragazzi delle scuole italiane stanno esponendo i migliori progetti sul piano digitale. Per tre giorni Bologna sarà protagonista. I ragazzi potranno confrontarsi con workshop, attività e laboratori e parlare dei temi dell'innovazione.